I partiti non voteranno Maddalena, non capiamo come mai, quantomeno PD e Movimento 5 Stelle non convergano su questo nome, visto che tra l'altro sono i due partiti che sono stati di riferimento per il professor Maddalena, come lui stesso ha detto, peraltro ricordiamo che è ex magistrato, già vicepresidente della Corte Professionale, persona che incarna una visione della società completamente diversa da quella del draghismo, per noi è un ottimo candidato e teniamo però che invece questa manofrina dei partiti sia semplicemente la costruzione del voto a Draghi che dopo un impasse verrà chiamato come salvatore della patria e quindi verrà votato quasi per sfinimento anche se in realtà lo sanno già che questo dovrebbe essere lo scenario, come dire, tutto teatro. E a parte Maddalena c'era un altro nome? Beh, noi ne abbiamo fatti 12 all'interno di queste componenti che si sono riunite, tutte di opposizione che si sono riunite, un altro nome prestigiosissimo e che incarna la lotta alla mafia e la lotta per la legalità ad esempio di Matteo, un'altra persona che ricopre importanti ruoli istituzionali e quindi potrebbe essere assolutamente perfetto per questo ruolo. Grazie. Grazie.